la stella laica guarda che io voglio prendere questi fiori se tu ci passi sopra spostati spostati guarda hai messo anche i piedi sopra schiacciati questa è una specie di pianta grassa vedi queste sono le piantine le ho messe anche in qualche vaso via via e ora fioriscono guarda qui che bei fiorellini sono pieni di formiche, di api, ferma stella come si fa a firmare con questi e così andiamo a mettere il bosco gli uccellini campani questa è una specie di rosellina che ora devo venire a coglierla perché è una pianta medicinale che fa molto bene insiccati e messi per l'inverno si servono e si dobrano vabbè tutte sono piante medicinali se lo sai dobrati con piano piano senza esagerare stellina che ci va è caldo bisogna che è di toso è troppo pelosa vediamo se trovo una macchina per tosare in prestito in prestito se no alla fine mi tocca comprarla solo che un po' costa e mi sono andata a pagare altre cose se no faccio come l'hanno scorso afforbiciate e l'ho fatta tutta l'avevo pelata tutta e l'avevo lasciata solo la testa da leone e la coda e un po' le zampette e la diamo a ridere a ridere vabbè ma comunque tutto l'estate è stato bene e verso prima che iniziasse l'inverno era bello e è cresciuto tutto dai andiamo dai casti fermi in mezzo io che faccio anche questi sono piante medicinali ecco sono tutte le fioriscono bello che si sta proprio bene nel bosco incantato una formichina ragazze si va a casa dai che c'è da fare andiamo cartellina bella andiamo andiamo su dai a casa è più fresco e non so che fuori si sta meglio come i bambini non sta fuori dai andiamo su andiamo Aica dai vai avanti tu fai piano perché lei le gambe dietro le rego male vediamo che non si ferma alla fine io faccio camminare tutti i giorni c'è il problema di deambulazione era ancora per 14 anni ancora va dai andiamo dai aica dai si fa come un'ella avete ragione sta proprio bene fuori questo è il noce è cresciuto proprio bello e ancora è giovane molendo cresce ancora di più se fai mangi l'erba dai l'ho mangiata anche prima dai andiamo su io li trevo trascinare dai su questo è malpo ed è cresciuta l'erba fra poco fa due metri che casino d'erba dovrei tagliarla adesso aspetta un po' vuol dire se il caldo la bassa se no passano i cinghiali e la bassano tutta mi devono anche un piacere dai andiamo su andiamo al fresco che è meglio e buon pomeriggio a tutti ciao dai vieni avanti